35mm è contentissima, felicissima di intervistare Stefano Incerti, possiamo dirlo, ormai sono quasi 20 anni, ha iniziato nel 1995 con Il Verificatore, è stato ottimo interprete, ha vinto altri premi e ha diretto L'Uomo di Vetro, Gorbaciov nel 2010, adesso arriva qui al Nuoarim Festival 2013 e presenta Neve. So che hai fatto una rapina. Ma sì? E che altro sai? Che non sei un rapinatore. No? No. Ieri hai parlato durante la presentazione del film di una tempistica diversa, di un'esigenza diversa rispetto a tutti i tuoi film, perché c'è stata questa urgenza nel creare e nel tornare a dirigere così velocemente questo film? Io avevo e ho altri due progetti più difficili, più costosi, più complicati da mettere su in questo momento, insomma di crisi, di difficoltà. Volevo però insomma in qualche modo a tre anni da Gorbaciov ritornare a fare un film. E questa storia è arrivata, perché l'urgenza? È arrivata all'improvviso. Ne ho parlato con Patrick Fogli, che è questo giallista bolognese, con il quale avevo un altro progetto. Insieme in un mese abbiamo scritto il soggetto, in un paio di mesi la sceneggiatura, che è un tempo record per me, che insomma per Gorbaciov ci ho messo sette anni, l'Uomo di Vetro, più di tre. E quindi ho pensato che piuttosto che aspettare almeno un anno le risposte di Ministero, Rai, eccetera, eccetera, era il caso di provare a farlo, perché le dimensioni della storia mi consentivano di fare un film agile, come si fa in Europa, insomma, come i tanti film islandesi, finlandesi, svedesi, che vedo che in Italia non arrivano neanche, per i quali voto agli Oscar europei, che sono meravigliosi, senza cast, con grandi idee, snelli e agili. E quindi abbiamo ottenuto questo piccolo finanziamento per lo sviluppo della sceneggiatura Medià, unico film italiano, Medià è l'organo europeo di promozione del cinema, di sviluppo del cinema, e siamo partiti, insomma, con una nuova veste aggiunta a quella di soggettista, sceneggiatura e regista, quella di coproduttore. L'urgenza, l'urgenza è c'è un momento in cui ti rendi conto che una cosa va fatta, è una cosa anche irrazionale, perché, appunto, investire le proprie fatiche, ma anche le proprie risorse, in questo caso economiche, significa un po' un salto nel buio. I film sono belli per questo, non è la televisione, non c'è serialità, sono tutti prototipi. Non puoi mai sapere come sarà accolto, che tipo di... però io volevo farlo, innanzitutto per me stesso. E ho chiamato questi due attori, Roberto, come dicevi tu, col quale ho fatto il verificatore, di cui sono diventato amico poi negli anni, ed Esther, che ho visto per la prima volta in questo bel film, che si chiama La Ba, di Guido Lombardi, nel quale aveva solo tre o quattro scene, e ogni volta che appariva è come se irradiasse il film cupo, duro, doloroso di una grande... infatti ho parlato con Guido, che conosco, tra l'altro, bene, e ho detto guarda, anche altri due o tre non avrebbero... e da quel momento ho cominciato a scriverlo pensando a loro. Finita la sceneggiatura, gliene ho parlato, insomma hanno accettato con entusiasmo e abbiamo iniziato il ripeto. È proprio quello che succede quando Esther, che interpreta Nora, entra in campo. Questa neve e poi questa figura con i tacchi, il giubbottino che mangia sempre, c'è un'esplosione ogni volta che entra in campo? Sì, è un po' una ventata di vita, insomma, donato il personaggio di Roberto e Francesco in un momento veramente doloroso della sua vita, e scopriremo solo alla fine del film perché ha tanta urgenza di ritrovare questa refurtiva, il bottino di una rapina avvenuto qualche anno prima, e di cui lui in maniera fortunosa è venuto a conoscenza. Nora è per lo stesso motivo, da Naro scappa da qualcun altro, ed è l'esatto opposto, è vitalità, è intelligenza, è furba, ne volevo fare un personaggio tridimensionale, non volevo che fosse lo stereotipo della femme fatale, quella che è al noir che costringe il nostro eroe alla debacle, volevo che fosse un personaggio affascinante ma anche, come dire, un po' controverso, e li abbiamo costruiti a tavolino. Avevamo talmente tanto poco tempo per girare che abbiamo fatto una preparazione quasi teatrale, provando le scene, ma non solo quelle dialogate, ma anche tutte quelle che nella prima parte del film sono silenziose, quindi fatte di sguardi, di situazioni. E poi il terzo personaggio, la neve, che è un contesto al quale non volevo rinunciare. Mi serviva e mi è servita a raccontare ovviamente dei paesaggi meravigliosi, ma anche un paesaggio interiore, questo freddo che pian piano si scioglie tra di loro, ma appunto il freddo che si portano dentro, e che poi invece questo percorso fatto insieme, che non diventerà mai una storia d'amore classica, ma solo veramente un cammino fatto fianco a fianco scioglie quando questa piccola brace prende vita. Assolutamente, la neve è il terzo personaggio del film, e come diceva anche Nora, cioè Esther, quanto è stato difficile girare in sole tre settimane con temperature che arrivavano fino a meno 14? È stata una scommessa pazzesca, non avevamo i soliti mezzi, cioè il gruppo elettrogeno, le roulotte, un po' perché saremmo stati troppo invasivi in un panorama che non puoi calpestare, questa è la cosa più banale, ma anche perché io volevo una truppa quasi documentaristica, eravamo in 10, 12, 3 o 4 dei miei allievi dell'Accademia delle Arti dove insegno il mio storico direttore della fotografia, Pasquale Mari, che però, per esempio, proprio nel giorno in cui giravamo il finale ha avuto un incidente, si è scivolato sul ghiaccio e si è fratturato il bacino, e quindi ho continuato senza direttore della fotografia, sta benissimo, è molto contento del film, ho fatto io stesso da operatore alla macchina, il 90% dell'inquadratore del film li ho girati io, anche nella macchina a mano, sulla neve, insomma, le condizioni più estreme, il freddo di cui parlavamo, alcune nottate praticamente isolati mentre giravamo in questo cimitero, in una specie di tempesta di neve con mezzi della protezione civile che venivano a liberarci, insomma, però una grandissima esperienza e sono sicuro che se non fossimo stati noi a doverci un po' ad adattare con il nostro piano di lavorazione alle situazioni, non avremmo potuto cogliere la bellezza di quei luoghi, quindi è stato da una parte, come dire, un limite, ma dall'altro una grande risorsa. E le tre settimane, le tre settimane, io avevo come riferimento un film che faccio vedere spesso ai ragazzi, che è l'esordio di Spielberg, Duel, girato in due settimane, era tutto esterno giorno, attenzione, quindi più facile, però tutto in due settimane in un percorso molto circoscritto geograficamente, in modo che in pochi chilometri cambiava molto il paesaggio, è quello che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo girato a Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Vindoli, il paesaggio cambiava tantissimo, ma eravamo sempre, come dire, in un'area assolutamente limitata, in modo da poter fare scene molto diverse senza perdere troppo tempo negli spostamenti. Ultima domanda, forse un po' troppo teorica, quanto c'è dei soliti ignoti di Monicelli e anche un po' di Gasman nel personaggio appunto di Donato nel tuo film? Ma ci sono tanti film, ovviamente i soliti ignoti, ma c'è anche Fargo, c'è anche Soldi sporchi di Sam Raimi, c'è, come dire, un tentativo appunto di lavorare all'interno di un genere, che è quello noir, ma per sfruttarlo a... c'è un film, per esempio, che mi piace ricordare come... l'ultimo film che ho visto prima di scrivere il soggetto, La Sera Prima, che non ha nessuna relazione con questo, che c'era una volta in Anatolia, che è un film turco meraviglioso che ha vinto a Cannes, in cui anche lì c'era, come dire, una lunga notte nella quale questi due personaggi, un pubblico ministero e un dottore, si conoscono, perché il pretesto di andare a trovare il cadavere di questo uomo che è stato assassinato e in realtà diventa un racconto delle loro vite. Ecco, non ha nulla a che fare con il mio film, però è quello che ho visto, le ultime immagini su un grande schermo, dodici ore prima, sono quelle lì. Quindi, in maniera poi assolutamente imponderabile, incosciente, tutte queste cose magari sono entrate in neve. Molto bello, noi facciamo come 35mm, un'ultima domanda a tutti voi registi, cineasti, attori, qual è stato il tuo primo film, quello che da bambino, forse da adolescente, ti ha fatto un po' capire che ti eri innamorato e volevi lavorare nel mondo del cinema? Posso rispondere nettamente, perché avevo 5 anni e i miei genitori mi hanno portato a vedere un film che era vietato ai minori dei 14 anni, quindi sbagliando completamente, perché in un giorno solo ho visto, per la prima volta, una grande sala, più di mille posti, l'enorme schermo con il crepitiero delle casse, il film è Piccolo Grande Uomo di Arthur Penn, con Dustin Hoffman, a differenza di tutti i western in bianco e nero, Buonisti, che vedevo in televisione, in un film con una violenza sessuale, con il racconto dalla parte dei pelli rosse, in quel momento sono rimasto completamente scioccato, in un senso positivo, e da lì ho cominciato a vedere i film con un'altra attenzione, sperando un giorno di riuscire a farne pure io. Questo è Stefano Incerti, ti chiediamo solamente di salutare in camera noi web spettatori di 35mm. Neve è un piccolo film, ma è il film che volevo fare, esattamente quello che avevo in testa, e spero che vi piaccia. Buona visione. Grazie. Ateno. 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 Grazie per la visione!